Al termine di un'accurata e prolungata attività di perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Salerno, il nucleo operativo della Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro all'interno dell'area doganale del porto di Salerno di circa 60 tonnellate di rifiuti speciali di varia natura, quali pneumatici, motori ed accessori di vetture, compressori di frigoriferi ancora carichi di gas e numerosi pannelli fotovoltaici. L'esportazione del materiale destinato al Burkina Faso era giustificata da documentazione falsa. Sette in tutto gli indagati per i reati di traffico illecito di rifiuti e ricettazione.